Ben trovati radici della mobilità, dalle 13 è già chiusa la fermata Colosseo della metro B, deviate sette linee di bus e sono già scattate. Dal primo pomeriggio di oggi le misure di viabilità e sicurezza in vista della via Crucis che si svolgerà nell'area del Colosseo dalle 21 alle 23 e 30. Chiuse al traffico anche alcune strade dell'evento, tra queste via dei Fori Imperiali, un tratto di via Cavour, via di San Gregorio, deviate le linee 51, 75, 85, 87, 117, 118. E domani dalle 15 alle 19 un corteo da Piazza della Repubblica raggiungerà Piazzale Tiburtino, filando anche lungo via Giovanni Amendola, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, Piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana e Piazza di Porta San Lorenzo. vi vieti di sosta, chiusure e linee deviate al passaggio della manifestazione. È tutto dal Tg della Mobilità.